Piazza Grande è protagonista dell'estate Aretina con Notti sotto le stelle, una a tre giorni tra musica, divertimento e cultura in programma per il 12, il 13 ed il 14 luglio. Saranno tre giorni dove la piazza e tutto il centro sarà restituito agli aretini, in delle serate calde dove si può anche uscire, dove si sta con le famiglie, con i figli, ritornare nel prato verde di Piazza Grande e godersi di questo straordinario scenario che tutti ci invidiano sarà veramente una bella cosa. Sosteniamo più di un evento che propone l'associazione che da sempre si distingue per grandi risultati in questo senso e voglio collegare con un ponte ideale tra spettacolo, cultura e arte questi eventi con quanto abbiamo già organizzato in fortezza insieme al Comune che parlo appunto della mostra di Ucoriva, eventi importanti che contribuiscono insieme a valorizzare la città alta. Tra gli eventi clou della manifestazione, la cena in bianco sotto le stelle che avrà come dress code abiti ricorosamente bianchi in programma per mercoledì 12 luglio, l'intervista spettacolo di Morgan giovedì 13 luglio ed infine venerdì sarà il turno della prima nazionale dello spettacolo Eroi, sette maestri d'Italia più uno di Andrea Scanzi. Cercherò di raccontare otto grandi personaggi che ho avuto la fortuna di incontrare. Sono sette italiani più uno straniero, più una sorta di specialità che nascondo alla fine che è Roger Waters, il fondatore di Pink Floyd e poi ci saranno Fabrizio De Andrè, ci sarà Giorgio Gaber, ci sarà Ivano Fossati, Don Gallo, Marco Simoncelli, Enrico Sacchi, Edmondo Berselli. Tutti questi personaggi li ho conosciuti, tutti questi personaggi mi hanno dato qualcosa ma soprattutto tutti questi personaggi hanno dato moltissimo a questo paese e in generale a questo nostro presente.